buongiorno a tutti sono mitico 310.046 benvenuto alla nuova live con fortnite creu vediamo quello che ci attende oggetti gratis oggi dai carica unma unma eccoci 1000 watts e niente nient'altro che fregatura sotto giro una fregatura tremenda e non è una volta di giro e non è giusto non è possibile e non esiste non è possibile e non è possibile è un'altra parte Grazie a tutti. 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 Subscribe in Epic Games and contact me in Epic Games. Thanks. Mythico 310.046. Grazie a tutti. 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 Happy Games. Trovami. Io giochiamo insieme. Intanto mettete un follow. Grazie a tutti. Ok. A volte ci vediamo. Vi è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 205 ray il il drone ovvi fate esplodere questo gas per favore e per il dire di martellato Grazie a tutti. 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 No, aspetta, vediamo. No, ok, non si messo. Ok, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Troviamo un posto, tranquillo. sull'oscuro, sull'oscuro, se c'è... e via, sull'oscuro, 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 sull'oscuro. ho un po' di lungo, sull'oscuro. No, a posto. Ok. Si parte. Per la vittoria. si. Se vuoi andare all'altra parte e vai, eh? No, no, va bene. a me la cittadella. Si, si. Allora, sicuramente, se si chiuderà su Piazza Incugine, quindi andiamo verso Piazza Incugine. Sì. Ah, previsione della notte e pesta, con il 7. Io ci ho impostato il 7, poi... e munizioni e demolizioni, questo è buono, eh? Si. eh. Ah, c'è un sacco di zappeloni, eh? Quindi, ti puoi cavolare, come ti pare. Basta che non dici bestemmi, perché sennò mi vanno. Cosa merchi? Ho fatto già un cazzato... Ho fatto già un cazzato... Ho fatto già un cazzato... Ho fatto già un cazzato a una persona. Ho fatto già un cazzato, ho fatto già un cazzato a una persona. non va bene. metto il martello bene è andato giù va bene no no lascia vai tranquillo chiedo chiedo io intanto lo faccio questo no vado a venire una persona andiamo un attimo qua te lo aggiungo mi sta pure forte no io devo andare mi ha chiamato mia mamma va bene ciao ci vediamo ciao ciao mi chiami te mi mandi in l'ipoteo ok ok ciao allora le mollo laburo ciao dammi la corona mi mandi in l'ipoteo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, andiamo. Hai messo il follow sulla pagina mia? Sì, sì. Perfetto, bravo. That's it. Aspetta un momento. Vai. Metti pronto? Ho sbagliato. A posto. Ecco, adesso non riempire, perfetto. Ieri sono arrivato alle 10. Quante? Alle 10 vittoria. Perfetto, bravo. Vai. Ecco. Vediamo. Buonissimo. E' un po' di buona. Sì. E' un po' di buona, la salaria. Spesso. facciamo una partita eh, o dopo quando vuoi mi contatti quando sarò su fortnite se vuoi giocati con me? prossimamente ok sei dentro allora dove andiamo? dove andiamo? metti il punto va bene abbassa un po' il volume della voce ah scusa poco 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 ora? va bene perfetto è abbassato la voce va bene va bene va bene va bene va bene ma perché si è toccato? eh c'è un po' di rumore c'è un po' di rumore tranquillo a posto ok luttiamo medicini per la finale e qualche scudo per la finale e se c'è un martello il resto medico a bomba, previsione e proiettili ok? ok ti seguo eh, sarò il tuo scudo faccio la voce? si si a me, a me c'è gente sopra te si si prendi una sciccola e a te lo qua e pusho quello attenzione a pusciare eh, camperone alla fine terra grazie ok buon grattempo buonissimo ok c'abbiamo una serfa vicina perfetta non sarebbe più la pressione tanto la assente è vicina grazie non si può costruire non lo può costruire oh se ti serve una mano io ci sono eh io ci sono io ci sono è vicino non lo è ecco ma è qualcosa che è оротAny arrivo adesso dare una persona ok ho assoldato una persona un bot ok ci sono ecco si ciao c'è un tipice di un nr no grazie vuoi direttamente il bar no no non mi serve grazie ci senti i testi chiusi non sono io però c'è troppo tempo con l'altro e allora non posso fare altro perché di solito guardo con gli altri non si sente vabbè un pochettino tranquillo questa è la bassina acetta vocale bene questa è la bassina acetta acetta vocale cosa c'è gente vabbè non a terra come a terra non ci sono io a terra a terra ci sono altro vieni 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 torna 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 non sostanza torna c'è c'è un altro qua ne so ne auio siamo troppo lontani siamo troppo distacchiati vieni da me cosa.. io si aspetto qua mi dico c'è una persona attenzione che forte c'è una corona sicuro al cento per cento ma se l'ho ucciso d'amico si è un'obiettivo c'è un'obiettivo che si è un'obiettivo Non so, non so, non so. questo è un po' il brand eh che usciamo? io mi porto questa ok andiamo qua hai colpi singoli? e qual è? non mi ricordo questi questi? basta basta va bene ce l'ha ah vero ah no è questi aspetta singoli questi? no davvero l'ameli? questi? no non ce l'ha non ce l'ha dai ok andiamo a trovare in giro tu ce l'hai oro cosa sei? tu ce l'hai oro no no ce l'ho si ce l'hai oro si 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 perché? qua pausa questo ancora? eh non c'è più anche l'uomo guarda ci siamo informati ora di più che cosa serve? serve per il fuoco vedi si sta alzando la pressione squadra ah va bene serviva per farti una zacca di fumo e c'è che cosa e c'è che cosa e c'è che cosa e' me? no spero quello che vuoi come va ma sto posto eeeh non mi domino andiamo in safe subito ah ho bastione bastione naturale aspetta prendo questo cosa? gli scelvi prendi quello prendo quello prendo quello prendo quello i scelvi lo prendo lo stesso dove sono macchine? ho sempre la macchina ok andiamo andiamo la safe la safe la safe la safe Non c'era macchina a porto in serio? Non vuole entrava? E stavo cercando a chi? Il solito c'era... Vabbè ti seguo Ho messo un punto eh E vado dritto per dritto Vado dritto per dritto Attenzione che c'è qualcuno eh Sicuramente Beh c'è il tuo fatto è gratis No qua è troppo Andiamo? Vado Vado C'è la entrappa Ok io sono verto Siamo dentro ora? Sì L'ho scappato Vieni C'è? Metti il punto Qua co 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 devi da me Un momento Prende lo splash Perfetto Ma hai porti quello splash? Ce l'ho ce l'ho Ce l'ho E ce l'ho quattro Ce l'ho un altro dove dai Ok Ok cominciamo a trovare qua Un punto Mi sparano Un punto Un punto Un punto Un punto che ci sono? che ci sono? a terra a terra no c'è non so che dai 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 grabo mi dico eh insomma non fai niente eh perdono eh scusa io non l'ho visto guarda il ruolo è finito ci sentiamo dopo ci sentiamo un altro giorno ok ok ci vediamo un altro giorno ok come ho detto ci senti eh come un figlio di fu 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 in pratica spammavo gli smash sempre c'è anche la delle ruote ho spammato le volte la smash vediamo la della partita insieme eh eh vediamo la partita insieme che palle oh ci sentiamo allora ciao è stato un piacere giocare con te ok contattami quando sei su happy games così giochiamo insieme ok ciao non sono più grave ok ciao 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 ciao